Come l'ho conosciuta? L'ho conosciuta su Facebook girando tra i post e ho visto ho visto che mi interessava parecchio perché perché c'era una bella faccia comunicava bene comunicava sicurezza tutto quello che mi mancava in realtà non bisogno di capirlo perché lo conosco ci conmigo ogni giorno e mi fido. Non bisogna sapere se è quello giusto, bisogna dare una possibilità, anche perché non sarà la prima o l'ultima volta. Come l'ho conosciuta? L'ho conosciuta perché abbiamo sostanzialmente gli stessi interessi, quindi diciamo che io ho trovato lei e lei ha trovato me. Beh, la mia prima volta immagino di farlo in una cabina. L'ho guardata e me ne sono innamorata. Come la immagino. Immagino il fuoco di artificio, perché avrò un sacco di tensione, siccome l'ho aspettata per tanto tempo e sarà bello, sarà bellissimo. Il 4 marzo ho un appuntamento importante con lei e spero che vada bene, anche se poi alla fine lo capirò dai giorni successivi. Quindi il 4 marzo voterò potere al popolo e se posso darmi un consiglio, fatelo anche voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.